Cicuto ha dato proprio un segnale che la Biennale è una delle istituzioni più importanti, non solo della città ma della cultura internazionale. Dal 1895, quando iniziò questo percorso culturale, che la Biennale viene vista è Venezia, che è legata a lei a filo doppio come una istituzione che porta avanti cultura, iniziative di avanguardia e quant'altro. Il presidente dell'Istituto regionale Ville Venete, per sei anni anche rettore dell'Università Uav di Venezia, segue da vicino anche l'attività della Biennale di Venezia e plaude in modo convinto all'identità del nuovo corso impressa dal presidente Roberto Cicuto. Tra pochi giorni si aprirà la Mossa Internazionale di Architettura. I romani ne avevano parlato ai tempi di Augusto con Vitruvio, che l'architettura è importante per dare segnali di qualità al territorio, salvaguardarne l'identità e la Biennale con la Mossa di Architettura ci si prova. Poi il cinema a settembre. Si farà dal primo di settembre all'undici con importanti presenze cinematografiche e poi con questa bella novità di dare un leone d'oro a un personaggio che io stimo particolarmente, che è il Roberto Bedigni, che darà anche questa spunta di curiosità e di interesse culturali al festival. C'è ottimismo? Direi di sì e inoltre c'è la fede, che attraversa tutti i nostri lavori e quindi con la fede si può aprire percorsi di speranza e si guarda al futuro.